Da disoccupati a camerieri, pizzaioli, cuochi esperti in prodotti locali e barman. Attraverso il corso Progetto Gusto, organizzato da Confcommercio e Confesercenti e finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Europeo. 80 persone, prevalentemente donne, con un'età compresa fra i 35 e i 40 anni, hanno frequentato il corso impegnandosi in stage e lezioni per un anno intero. L'esperienza per me è stata bellissima, è andata molto bene e gli effetti sono che dove io ho fatto il mio stage sono stata assunta per lo stagionale di quest'anno. Al momento non lavoro, però probabilmente dal prossimo mese inizierò un percorso in ambito ristorativo. Nasce da un cambiamento di vita, da architetto a cuoca. In una fase un po' difficile della mia vita ho deciso di intraprendere quella che è una delle mie passioni, la cucina. Per dieci di loro si è avverato il sogno di un'assunzione a tempo indeterminato. Per tutti il raggiungimento di una qualifica spendibile a livello regionale. Abbiamo formato tanti allievi che sono già sul mercato del lavoro, alcuni di loro hanno già trovato lavoro, e che in un settore che richiede molta mano d'opera, sempre più specializzata e un settore molto vivace, quello dell'anogastronomia e della ristorazione. 60 le imprese che hanno aderito al progetto, che ha visto anche la presenza di chef stellati come docenti. Si tratta di qualifiche regionali per cuoco e cameriere e di certificati di competenze per le figure del cameriere per la somministrazione di birra, di vino, il cameriere generico.